all'auditorium della conciliazione il 7 8 maggio andrà in scena magic uno show di magia formato famiglia che vanta la partecipazione dei più grandi artisti della scena mondiale quella di quest'anno sarà un'edizione completamente rinnovata ci sarà in anteprima assoluta il numero di magia e prestigiazione sky drone con una serie di droni in scena per unire la tradizione dell'illusionismo alle evoluzioni high tech lo show diretto da alessio manci con la regia di francesca bellucci vedrà numeri di trasformismo proveniente dalle mauritius fino alle grandi illusioni delle isole di man mentre le magie dal ritmo cubano si alterneranno con quelle turche e francesi lo spettacolo prodotto da wonder art si avvale di un cast di altissimo livello artisti provenienti da tutto il mondo per regalare al pubblico un'esperienza da sogno un gala da non perdere per una full immersion nel regno della magia